Pronto? Allo, collocamento? Ah, sei tu! Dimmi, dove stai? Eh, è già finito, eh? Senti, per il lavoro ho già sistemato tutto, sì. Sì, è un posto fisso come guardia a caccia comunale. Eh, devi comprare un libro di ornitologia. No, di ornitologia, è un libro sui uccelli. E non fare il volgare! Eh, ti preoccupare, che ci penso io. Domani mattina devi andare dall'esame al comune. Sì, domani mattina. Va bene. Ciao, eh. Ciao. Giornò. Mi scusi, ho preferito mischiare, diciamo un po' di caccia e un po' di pesca. Non sapevo bene. Caccia normale, caccia piccola, caccia grossa, caccia malefarde. C'è l'acqua, l'ha visto? 8 milioni di fogliette, vinceremo. Non faccialo spiritoso e si secca. Sì. Mi manda mio cugino Gaetano. Chi? Mio cugino Gaetano. Non conosco nessun Gaetano. Ma scusi, lei non è la signora Branzoletti? No, io sostituisco la signora Branzoletti. Vabbè, ma insomma lo stesso. E odio, i raccomandati. Grazie. Dunque, secondo le nuove disposizioni di legge, per esercitare come guardia caccia lei deve rispondere ad alcuni brevi quiz di ornitologia per valutare la sua conoscenza sulla fauna da salvare. Sì, insomma roba... A 10 secondi per dirmi a quale specie, sottospecie, famiglia, appartiene questo esemplare e come si chiama. Stia fermo con le mani. E risponda. Ma scusi, io così vedo solo il culo dell'uccello. La coda, prego. La coda, c'è. Non voglio aiutarla. Si tratta di uno stanziale. Ah, è stanziale. Ebbè, questo è importante. Dunque, stanziale vuol dire che un uccello che andrando nella stanza... Eh, no, nel corridoio, andrando alla cucina, un uccello domestico. Si sbrighi, prego. Oh, non mi puoi far vedere il becco? No. L'ala. No. Sa perché? Perché davvero non si parte ancora gli uccelli. No, noi li vediamo tutti, no? Il becco, la coda... Le sue considerazioni sugli uccelli non sono pertinenti. Mi dica, come si chiama? L'uccello del prete. Eh, sì. Uccellus praetorum, scherzoso. Che questo è l'uccello che è della sottospecie dei... Spidocchiamendus maialorum. Spidocchini maiali quando c'hanno grazie. Ah, sbagliato. Ho sbagliato. Si tratta di un Canaris argenteus italicus telorentis. Ah, telorentis dinus. Della famiglia dei migratori che vanno in America, poi vanno a Londra e poi vengono in Italia. No. Signora, sei del per cortesia. Signorina, prego. Signorina, scusa. Io ho famiglia, mi aiuta, mi stai facendo le domande, mi scoppe la capa me. Io devo lavorare, sa? Eh, non capisco ste cose. Va bene. Le concederò un'ultima possibilità. Grazie. Questi due piccoli volatili sono della stessa specie, della stessa sottospecie ma di due famiglie differenti. In dieci secondi mi dica come si chiamano. Ma sempre di cu... Di coda, prego. C'è uno che c'è sotto coda in viammata, è rosso. Provate a mettere un po' d'un guendo, povera bestiore. Risponda. Un momento, scusche, non vedo. Stia fermo con i miei occhiali. Cinque secondi. Quattro secondi. Tre secondi. Ma cosa sta facendo? La cuffia, non sento molto. Due secondi. Secondi. Aspetta, aspetta. Questo è saltim becus alla romanus. Il tempo sta per scadere. In grociatorus. Indotec. È scaduto il tempo. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Tutto è bene quel che finisce bene e una meno. Si accomodi, prego. Grazie tante. Lei è veramente gentile. Quanto mi daranno di stipendio, Rosa? Mi hanno promosso? Lei è bocciato. Come bocciato? Bocciato. Io ho famiglia, signora. Lei mi deve aiutare. Per quel che mi concerne, le può anche morire di fame. Ed ora, prego. Un momento. Come si chiama lei? Avvisi che c'è lì per Z, ma promosso? No. Devo cancellare il suo nome dall'elenco. Come si chiama? Indovina un po'. C'è 10 secondi. Nome, cognome e codice fischiale.